Siamo a Villa Torlonia, dove Giovanni Pasquini ha trascorso la sua infanzia e ambientato alcune delle sue poesie più belle. Facciamo a soli, a due voci, non dispute, ma intrecci, a due di un unico discorso fra persone legate da affetto, da stima, nel teatro di Villa Torlonia, che come tutti i teatri in questo periodo è chiuso ma non è vuoto, è fermo ma non è inattivo, è come un uomo che medita, che sogna, medita e sogna fortissimamente. Grazie a tutti.